buongiorno a tutti mi chiamo luca abito a mirandola e amo il cinema e vorrei condividere con voi una scoperta molto bella una sorpresa in parte annunciata costituita da un grande film cruto mo un docu film che ho avuto modo di vedere nei giorni scosti egno regia di tornatore egno appunto e ovviamente egno morricone e questo docu film è un omaggio che tornatore fa al maestro al tramonto della vita di morricone e mi piace condividere con voi tre motivi che rendono a mio avviso imperdibile questo questo film il primo è che effettivamente è un omaggio a due grandi forme d'arte che penso tutti noi amiamo il cinema e la musica un connubio infindibile morricone e anzi che morricone esaltato la massima potenza e che nelle riprese nella ricostruzione di tornatore emerge con grandissima potenza sia proprio la sensazione quasi tattile che l'arte effettivamente elevi la nostra vita al di sopra delle quotidiane della quotidianità dei ritmi di ogni giorno delle piccole cose di ogni giorno della vita pur indispensabile ecco in queste due ore e mezzo di film ci si eleva si va oltre per il tramite di queste due grandi vie la musica e il cinema in 50 anni di ricordi in 50 anni di emozioni di immagini di suoni quindi questo è veramente un estasi per per l'anima e il secondo motivo è questo testamento artistico e spirituale di morricone che è giunto al tramonto della vita in modo commosso e commovente e si racconta si mette a nudo con grande disponibilità senza sottacere nulla chi avrà appunto la fortuna di vedere questo film noterà gli sguardi i primi piani che tornatore dedica al maestro con questi occhi che veramente dicono più delle parole veramente ci sono alcuni momenti in cui ci si commuove e anche morricone si commuove ed è dolcissimo proprio una persona che nella sua fragilità di anziano riesce però a trasmettere un'umanità che soprattutto e soprattutto il fatto che veramente è una sorta di vestale della musica che ha dedicato tutta la sua vita a questa forma d'arte non risparmiandosi ha scritto 500 colonne sonore e quindi in maniera quasi sacerdotale ecco questo questo quello che traspare dal suo racconto il terzo motivo è che giuseppe tornatore veramente è al suo meglio nel senso che riesce a rendere in maniera incalzante con mixando le interviste a vari personaggi oltre che ovviamente il filo conduttore centrale intervista morricone in maniera veramente mirabile due ore e mezza trascorrono in maniera velocissima dispiace quasi che finisca e non è semplice a volte dopo fin possono risultare un po uso questo termine un po pesanti magari insomma non avvincenti non non è questo il caso anzi i ritmi sono quelli giusti e i messaggi arrivano forti e all'anima quindi ecco concludo ringraziandomi dell'attenzione ovviamente e vi dico fatevi un regalo andate a vedere ennio che in questi giorni in programmazione nei cinema grazie